Il caso è chiuso. Aprirà i battenti regolarmente a breve, come ha ospicato dall'amministrazione di Carmelo Rizzonervo, la sezione staccata dell'Itet Dommasi di Lampedusa di Tortorici. Superate le difficoltà e le incomprensioni tra comune, città metropolitana e regione, tra decreti regionali, ricorsi amministrativi, ordinanze del TAR di Palermo e del Sindaco, tavoli tecnici e sopralluoghi, è cessata la materia del contendere. Io credo che questa questione, questo querello mai è chiusa, è già risolta, in quanto ieri il Sindaco della città metropolitana, il professore Accorinti, ha inviato una nota attraverso la quale si, praticamente per regioni che lui stesso qualifica di superiore interesse pubblico, ha posto fine appunto alla questione dicendo che si assume come noi abbiamo chiesto, come ha chiesto la regione, come hanno chiesto i genitori, come è stato richiesto dal TAR e come era auspicabile che si concludesse, cioè che si prendono in carico quello che è l'istituto tecnico sezione staccata di Tortorici e così si possa dare seguito senza soluzione di continuità al mantenimento della cosiddetta scuola ITET, sezione staccata di Tortorici. Ed in merito all'esito del secondo ricorso al TAR di Palermo presentato dai genitori, l'assessore Paterditi Martello ha spiegato che Il TAR in buona sostanza si riunisce il 15 di settembre per discutere della sospensiva, in effetti il giornale e qualche emittente, forse anche la vostra, ha dato la notizia di un rigetto del ricorso presentato dai genitori, non si è trattato di nessun rigetto in quanto è un fatto tecnico, l'avvocato dei genitori ha presentato sia un'istanza di sospensiva che viene discussa il 15 e un'istanza al Presidente del Tribunale per intervenire in audita altra parte immediatamente sulla questione. Il Presidente del Tribunale del TAR non ha fatto altro che non rigettare l'istanza di sospensiva che ancora si deve discutere, a questo punto si darà luogo a un non procedere perché è cessata la materia del contendere, ecco perché siamo convinti e rassicuriamo al 100% i genitori e gli studenti che la scuola inizia regolarmente.